Musica Etg più today buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento del mattino come sempre saremo insieme fino alle 11.30 tantissimi temi che affronteremo nell'arco della mattinata di oggi a partire appunto dal nostro collegamento in esterna questa mattina infatti siamo sui territori della Tremezzina sul lago di Como per tornare a parlare del cantiere per la variante appunto della Tremezzina dopo l'inchiesta sulle presunte tangenti per l'appalto dei lavori sulla statale regina seguiremo appunto cosa sta accadendo anche nell'arco della mattinata perché questa mattina è stato convocato un tavolo lo era già stato fissato nei giorni scorsi dove sono presenti appunto i principali attori del territorio lariano sindaci parlamentari consiglieri regionali ovviamente al centro di questo tavolo della discussione il futuro dei lavori una strada una variante appunto alternativa con l'obiettivo di snellire quantomeno il traffico sulla statale regina andremo tra pochissimo appunto ad aprire il collegamento con Silvia Legnani ma intanto anche una notizia di cronaca che ci porta ancora una volta a parlare di treni purtroppo è morto appunto questa mattina un operaio siamo sul Corriere della Sera di 47 anni investita all'alba sulla linea Bologna-Venezia ancora disagio ovviamente treni sospesi per ore ritardi e cancellazioni questa è la notizia appunto di apertura dei principali quotidiani online una tragica notizia che ancora una volta mette in luce quanto sta accadendo per quanto riguarda il trasporto pubblico ferroviario ma la vedo collegata come vi anticipiamo andiamo a dare la linea allora a Silvia Legnani buongiorno Silvia sì buongiorno ci troviamo a Ossuccio davanti all'istituto comprensivo di Tremezzina dove in questi istanti sta prendendo il via la riunione convocata nelle scorse settimane che vede riuniti i rappresentati istituzionali e politici del territorio comasco per fare il punto sul cantiere della variante della Tremezzina che per tutta l'estate ha tenuto tutti con il fiato sospeso la preoccupazione appunto per il rallentamento dei lavori e ieri è arrivata appunto una nuova tegola sul cantiere della variante della Tremezzina con l'inchiesta che vedrebbe indagati due dirigenti ANAS con l'accusa di corruzione abbiamo con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo dunque una nuova pesante tegola su questo cantiere che è dessa preoccupazione ormai da mesi sì una tegola che sicuramente non ci aspettavamo proprio in un momento cruciale del cantiere perché è un cantiere che è stato fortemente voluto dal sindaco di Tremezzina Mauro Guerra voluto dal governo del Partito Democratico che poi è iniziato bene in effetti perché abbiamo avuto la prima, la scorsa estate, l'inizio del cantiere quando c'è stata una forte evoluzione il tempo favorevole ha fatto sì che questo cantiere si evolvesse in maniera positiva dopodiché c'è stato questo rallentamento che ha preoccupato e continua a preoccupare questo territorio e l'ultima tegola è proprio quella di ieri che crea ulteriore problema e incertezza sul futuro su quello che sarà il destino di questa opera cioè verrà fermato il cantiere ci sarà la possibilità di proseguire nonostante queste indagini aperte che comunque pesano in maniera significativa sul futuro di un percorso fondamentale per questo territorio di cui non possiamo più fare a meno ecco a rischio quello che temete è un blocco totale del cantiere potrebbe essere adesso siamo ovviamente ancora nella fase in cui le notizie stanno trapelando ovviamente tutti quelli che sono impegnati a livello istituzionale di qualsiasi partito e sono del territorio devono far sì che ci siano delle notizie attendibili ma soprattutto fare che il cantiere non venga fermato perché questo sarebbe un grave danno non solo per il cantiere ma anche per il territorio stesso Qual è l'obiettivo della riunione di oggi? Presenti anche parlamentari come Chiara Braga, Eugenio Zoffili anche voi consiglieri appunto di tutti i partiti Ecco è proprio lo scopo quello di fare il punto della situazione a che punto siamo quali sono le notizie reali e attendibili che ci portano i nostri rappresentanti istituzionali a Roma e prenderci tutti insieme un impegno di fronte alla cittadinanza di fronte alle persone che ci stanno guardando e che comunque asseguono con apprensione i lavori di questo cantiere per far sì che questo cantiere non si blocchi nuovamente e venga portato a termine che è quello che il territorio realmente si aspetta Da settimane ormai da mesi diciamo i rappresentanti anche istituzionali i sindaci del territorio attendono il nuovo cronoprogramma che Anas aveva annunciato anche durante l'ultimo tavolo che si era tenuto a Villa Gallia alla fine del mese di luglio cronoprogramma che non è arrivato E purtroppo i cittadini sono stanchi di promesse, di cronoprogrammi di carta scritta ma vogliono realmente i fatti quindi vedere che questo cantiere prosegue perché è la vera soluzione di questi territori quindi basta programmi scritti ma realtà e fatti che servono al territorio Che cosa vi aspettate da questo tavolo? Innanzitutto una coesione che va al di là delle barriere partitiche perché ovviamente apparteniamo a partiti diversi però siamo tutti rappresentanti e quello che ci unisce è proprio la rappresentanza del territorio quindi nel portare la nostra voce nelle istituzioni da dove noi proveniamo quindi sia in provincia ho visto il presidente della provincia bongiasca sia dal punto di vista regionale sia dal punto di vista nazionale la voce unanime nel dire il cantiere deve proseguire e questa opera deve essere ultimata Un'opera fondamentale per il territorio anche dal punto di vista viabilistico tra poco dovremo avere con noi il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli con lui parleremo anche di questo aspetto a te la linea per il momento Vittoria Grazie Silvia Legnani ovviamente torna a richiedercela quando sei pronta e noi iniziamo appunto la rassegna stampa online l'abbiamo visto la notizia di cronaca questa mattina in apertura dei principali quotidiani il caso una tragedia è morto appunto un operaio di 47 anni investita all'alba sulla linea Bologna Venezia ancora disagi i treni sospesi per ore ritardi e cancellazioni siamo appunto sul Corriere della Sera e poi ancora un articolo dedicato all'economia il ritroscena dai prelievi sugli utili e bonus si cercano i fondi per la manovra finanziaria e poi ancora l'articolo correlato appunto riguarda proprio le parole del ministro dell'economia Giorgetti sacrifici per tutti appunto il commento le parole che arrivano dal ministro agitano la maggioranza voci di una Meloni sorpresa questo appunto il titolo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ritiene scorretto parlare di extra profitti si tassano i profitti a chi li ha fatti la linea resta l'articolo 53 della Costituzione tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva questi appunto i lavori in vista appunto del bilancio andiamo su Lanza il primo piano ovviamente dedicato alla tragedia avvenuta sulla linea Bologna Venezia il tecnico investito da un treno stop alla circolazione dei treni ma torniamo a Ossuccio da Silvia Legnani sì come vi avevo annunciato siamo con il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli anche lui oggi a Ossuccio per la riunione che vede appunto qui all'istituto comprensivo di Tremezzina tutti i rappresentanti istituzionali politici del territorio per fare il punto sul cantiere cantiere sul quale ieri è proprio è caduta un'altra tegola davvero molto pesante sì non ci aspettavamo sicuramente un aspetto giudiziario sul cantiere della Tremezzina ma io sono voglio essere ottimista perché ci sono anche tanti magistrati che sono degli esseri umani anche loro come tutti noi e di conseguenza proseguiranno sono sicuro le loro indagini secondo quanto previsto dalle norme di legge ma spero che abbiano un occhio di riguardo sul cantiere cioè l'obiettivo è evitare a tutti i costi il sequestro del cantiere o anche parzialmente un sequestro diciamo vorrei eliminare la parola sequestro di cantiere mi piacerebbe e credo che chi faccia queste valutazioni abbia anche la capacità di ragionare da questo punto di vista e pensare al territorio soprattutto e a decine di migliaia di persone che qui ci vivono quindi può essere fatta giustizia probabilmente anche senza arrivare a casi limiti insomma il sequestro può essere l'ipotesi peggiore diciamo ma da mesi ormai si va avanti con lavori rallentati questa ulteriore indagine potrebbe portare a un ulteriore insomma peggioramento della situazione sì teoricamente sì sicuramente non ci fa bene questa indagine non ci fa assolutamente bene anche perché poi i responsabili sia del consorzio che di ANAS eccetera hanno la testa sicuramente da un'altra parte quindi secondo me la capacità dalla politica e noi di politici in gamba ne abbiamo parecchi credo dovrebbe essere quello di riportare l'attenzione sulla necessità di ripartire con il cantiere quindi di reperire nuovi fondi se necessari per i trasporti dei materiali inquinanti con arsenico e idrocarburi e concentrarci sui lavori poi le indagini di pulizia giudiziaria chiaramente inevitabilmente andranno avanti e spero che da questo punto di vista si possa lasciare un attimo da parte e magari non si renda necessario un sequestro parziale o totale del cantiere in queste settimane sul cantiere non avete avuto risposte da ANAS e dal ministero che sappia io al momento no tutto tace oggi l'incontro proposto dai sindaci del territorio in primis da Mauro Guerra sindaco di Tremezzina è volto proprio a chiarire questi aspetti ad arrivare ad avere un cronoprogramma dei lavori preciso a dare sostanzialmente certezze alla gente del nostro territorio questo è l'obiettivo della riunione che adesso è in corso assieme ai consigli regionali assieme al presidente della provincia assieme al prefetto insieme alle realtà anche socio-economiche del territorio quindi ai sindacati insomma tutti con un unico obiettivo devono assolutamente ripartire ai lavori ad oggi però al momento magari fra un'oretta o un'oretta e mezzo ne saprete di più da chi poi da chi sta partecipando alla riunione e niente l'auspicio è molto semplice insomma devono assolutamente riprendere i lavori altrimenti si perde la speranza si porta l'esasperazione alla gente e si fa fatica a continuare anche se quest'anno per esempio con il discorso ordinanza ANAS con il discorso degli osservatori del traffico con il discorso polizia locale polizia stradale e altre forze dell'ordine fra cui i carabinieri con il discorso che il questore ha proposto e ottenuto da parte anche del territorio e da tutte le forze di polizia questo piano integrato di vigilanza il venerdì sabato e domenica sulla statale regina dove le forze di polizia a turno presidiano il territorio insomma con tutti questi aspetti con tutte queste iniziative diciamo la situazione è notevolmente migliorata abbiamo avuto sicuramente dei disagi viabilistici però per quanto mi riguarda sopportabili questa però è un'opera che il territorio attende da anni ma che sarebbe fondamentale proprio per insomma dare respiro a una zona soffocata dal traffico certamente è un'opera fondamentale lo diciamo da 30 anni oramai fondamentale perché tutti i mezzi pesanti saranno deviati dalla galleria e quindi arriveranno direttamente nella zona di Griante e Menaggio la nostra strada ex statale 340 io la chiamo già così diventerà sostanzialmente una strada panoramica quindi ci sono meno problemi anche di inquinamento ambientale da questo punto di vista più viabilità del traffico cioè la nostra sarà una località che dal punto di vista turistico farà un salto di qualità dal mio punto di vista molto importante dunque alzerete la voce per chiedere risposte concrete e reali beh certamente alzeranno la voce innanzitutto chi è deputato a farlo quindi sindaci amministrazione provinciale tutte le autorità che hanno ma anche noi delle forze di polizia il nostro contributo l'abbiamo sempre dato e continueremo a darlo in questo senso quindi sollecitando il più possibile e soprattutto documentando e informando il politico di turno su tutto ciò che accade quotidianamente sulla statale regina tutte le problematiche che vediamo e tocchiamo con mano quotidianamente diciamo grazie grazie al comandante della polizia locale di Tremezzina per essere stato con noi Vittoria Tellalinea per il momento grazie Silvia Legnani da questi due primi contributi appunto dalle parole che sono arrivate dal consigliere regionale del PD Angelo Orsenig e poi ancora dal comandante della polizia locale di Tremezzina Castelli l'impegno unanime trasversale non soltanto di tutte le forze politiche ma anche proprio di tutto il territorio coinvolto che da anni l'abbiamo sentito 30 anni aspettava questa importante opera viabilistica e quello di restare uniti e sperare appunto che si da una parte la giustizia faccia il proprio corso dall'altra però non si fermino i lavori il cantiere appunto per la realizzazione di questa importante arteria di cui appunto beneficia di fatto l'intero territorio sotto tanti punti di vista e continuiamo anche a parlare di politica e lo facciamo ancora una volta assieme a Paolo Emilio Russo deputato di Forza Italia buongiorno e grazie per essere qui con noi buongiorno a voi e grazie per l'invito anzi guardi ne approfitto per salutare visto che c'è stato poco fa Massimo Castelli che io ho conosciuto molti anni fa quando era sindaco di Ossuccio e facevo il suo lavoro molto peggio di lei e quindi per molte occasioni l'ho intervistato adesso l'ho visto qua grazie di avermi di aver creato questo link e ha visto insomma quello che sta scotendo il territorio in queste ultime giorni in queste ultime ore anzi la notizia appunto di ieri di questa inchiesta che in qualche modo potrebbe minare poi sulla realizzazione di questa importante opera che il territorio comasco in particolare gli abitanti appunto di quella sponda del lago attendono davvero da tanto senta negli ultimi giorni mi passa questa espressione Forza Italia è tornata alla carica su un tema abbastanza divisivo nella maggioranza quello che riguarda la cittadinanza state lavorando forse su un tema più digeribile per gli alleati invece di Youth School e Youth Italia la vostra proposta prevede tempi ridotti da 3 a 1 anno per ottenere appunto la cittadinanza lei inoltre in aula parlando proprio della legge vigente ha detto come di una norma non più adatta alla società di oggi il compleo di chi fa politica è provare ad aggiornare le leggi perché ci sono un milione di studenti senza cittadinanza riuscirete a trovare una quadra o un accordo con gli alleati dato che questo tema sembra dividervi molto allora io mi auguro di sì e per questa ragione appunto stiamo per presentare e condividere una proposta di legge con i nostri alleati siamo partiti da diciamo una considerazione evidente cioè che il sistema che attualmente regola la concessione delle cittadinanze è un sistema molto inefficiente perché ogni anno l'Italia anche se pochi lo sanno regala è proprio il caso di dire la cittadinanza ha più di 60.000 persone che vantano un avo ma possono essere anche bisnonni o trisnonni che ha vissuto per un periodo in Italia persone che non conoscono la nostra lingua e non conoscono le nostre tradizioni e la nostra cultura evidentemente perché non hanno mai vissuta mentre i compagni di classe dei nostri figli che fanno un ciclo di scuola di almeno 10 anni attualmente 12 e quindi conoscono perfettamente le regole e la lingua appunto condividono i pomeriggi e le mattine a scuola con i nostri figli devono appunto aspettare molto più tempo allora noi interveniamo da una parte restringendo la possibilità di richiederlo per appunto le persone che non conoscono l'italiano e la nostra lingua e che fino ad ora hanno potuto vedere riconosciuta la cittadinanza e investiamo invece su una nuova generazione di figli di immigrati ovviamente parliamo sempre di immigrazione regolare che frequentano la scuola e quindi prevediamo che chi ha seguito un corso di studi di 10 anni quindi elementari medie i primi due anni delle scuole superiori debba avere titolo a richiedere la cittadinanza italiana lei ha fatto cenno di un'altra novità che miriamo di introdurre che è quella di abbassare i termini per la richiesta della cittadinanza esatto perché ad oggi chi ha titolo a chiedere la cittadinanza appunto nelle varie circostanze nei quali è consentito richiederla fa una richiesta e lo Stato ha tempo ben tre anni cioè due più uno per rispondergli per dire sì o no è una diciamo una durata che non è sostenibile che non ha nemmeno senso perché si tratta di controllare alcune pratiche burocratiche non servono tre anni certo quindi noi dimezzeremo questo tempo che sarà credo di un anno più sei mesi io la devo interrompere perché ho una chiamata però volevo sapere anche se allora la quadra se la state per presentare è già stata trovata questa è l'altra domanda pronto? buongiorno con chi parliamo? buongiorno a lei e buongiorno sospite di Forza Italia volevo fare due domande al signore volevo chiedere io ho sentito che Pier Silvio Berlusconi il figlio di sappiamo di Silvio Berlusconi ha deciso di scendere in campo con un nuovo partito le chiedo se è vero poi le volevo anche chiedere come mai Forza Italia si oppone a tassare gli extra profitti delle banche più che altro la Marina ovviamente grazie buongiorno grazie buongiorno ha sentito Russo credo che poi Forza Italia si opponga alla tassazione in generale questa era anche una mia domanda da sempre poi prego sta fondando vuole scendere in campo Pier Silvio Berlusconi con un nuovo partito sarebbe una notizia rispondo alle due domande e lo ringrazio per averle fatte allora io non so cosa abbia in mente Pier Silvio Berlusconi so che è un manager molto apprezzato che guida delle aziende e non credo che questa fase quantomeno abbia interesse a lasciare le sue aziende che vanno così bene e diciamo che ha ereditato dal padre quindi credo che ci sia un valore non soltanto tra virgolette economico banca e affettivo certo se decidesse di scendere in campo di lasciare le aziende di dedicarsi alla politica certamente darebbe un contributo importantissimo proprio perché ha un'esperienza di questo tipo non credo però che sia questo il momento anche se me lo auguro in qualche modo per quanto riguarda la seconda domanda che si incrocia invece con diciamo la cronaca cioè il fatto che nelle prossime settimane scriveremo la legge la legge di bilancio la manovra di quest'anno in realtà diciamo mi tocca un po' deruderlo perché noi non siamo contrari alla tassazione degli extra profitti le banche l'anno scorso hanno fatto 40 milioni di utili che è una cifra enorme saranno chiamate come tutte le aziende e come tutti i singoli cittadini che hanno guadagnato di più a pagare la parte il giusto e ovviamente come prevede la Costituzione chi ha più soldi deve contribuire in maniera maggiore noi ci siamo opposti a un'altra cosa cioè a una tassa strutturale perché come Forza Italia ma anche come centrodestra siamo contrari che si mettano nuove tasse sosteniamo da sempre e vogliamo praticare quello che sosteniamo da sempre che in Italia ci siano già abbastanza non solo una diciamo una tassazione eccessiva dal punto di vista della percentuale sul reddito ma anche il numero di tasse quindi se devono dare un contributo un contributo che può essere per esempio una tanto ma lo daranno e noi non ci opporremo ma non si mettono nuove tasse sulle banche sui singoli cittadini sulle partite IVA su nessuno ecco il ministro dell'economia Giorgetti ha detto in qualche modo ha fatto capire nuove tasse sia gli extra profitti che poi lui chiama utili in più e dice però aspettatevi una manovra con sacrifici per tutte piccole medie imprese insomma dice questa è la situazione in questo momento che sta vivendo il nostro paese e sicuramente i sacrifici da parte di tutti vanno fatti ed è quello a cui sta lavorando in vista come lei stesso diceva della manovra appunto della legge di bilancio pronto? Buongiorno con chi parliamo? Sono Antonio Galecco Sì Antonio le chiedo di essere breve perché manca poco al al dare appunto la pubblicità Sì mi devo parlare due cose solamente Prego Allora io anche al suo che vorrei parlare allora io mi professo autonomista e poi riguardo alla faccenda lì della creme gilla siamo le solite calimero sempre è la stessa storia e non ne usciremo mai benissimo perché adesso vanno processo e poi ci sarà la beata assoluzione in quanto al partito del deputato voi il vostro segretario tagliani è bravo ma non scalda il cuore allora ci vuole ancora sempre l'intervento della famiglia Berlusconi o Marina o Piazzidio insomma voi senza di loro siete le hanno unità di saluto grazie Antonio grazie e mi torna in mente ecco Russo facciamo una piccola divagazione poi torniamo appunto anche alle altre proposte che il vostro partito vorrebbe presentare c'è ancora questo legame molto forte tra l'elettorato azzurro l'elettorato di Forza Italia con la famiglia Berlusconi l'abbiamo visto anche nel voto per le europee molti lo hanno definito il regalo da posto ma appunto da di Silvio Berlusconi è ancora molto vivo questo legame questo voglio dire assolutamente sì tanto che il segretario Antonio Tajani che guida il partito da più di un anno con ottimi risultati perché io ringrazio Antonio per le osservazioni ma Forza Italia le scorse europee ha preso un punto e mezzo in più delle elezioni politiche quindi in realtà c'è una forte evoluzione con questa nuova guida sì il partito è molto legato alla figura del suo fondatore che è Silvio Berlusconi tanto che ha mantenuto il nome nel simbolo certamente c'è una forte impronta io devo dire che la fortuna che abbiamo avuto tutti e che ha avuto in particolare chi come me ha avuto il privilegio di poter lavorare con il Presidente è che ha lasciato un sistema valoriare così chiaro tra cui proprio quello di cui parlavamo poco fa cioè che non si mettono le nuove tasse cioè che lo Stato è già uno Stato extra large va diminuito serve uno Stato minimo e ha lasciato così tante diciamo delle indicazioni così chiare che non ci siamo mai trovati in difficoltà in questo anno e mezzo a fare una cosa come probabilmente l'avrebbe fatta lui e questo è un grande vantaggio che abbiamo rispetto ad altre forze politiche che magari cambiano idea sono meno coerenti noi abbiamo diciamo un credo molto forte e quindi possiamo essere coerenti a quello che diceva lui chiaro un'altra chiamata non riusciamo a proseguire nell'intervista pronto buongiorno buongiorno prego sì no volevo fare una domanda al politico a Russo il deputato di Forza Italia ecco ho detto che io non sono riuscito a parlare con Berlusconi purtroppo in tutti questi anni tra l'altro io abitavo in un paesello ci ha costruito Milano 2 proprio a fianco ci ha fatto un po' diciamo un po' piacere perché da bambini andavamo a giocare in quel paese tra l'altra parte quando siamo cresciuti siamo rimasti un attimo umiliati perché andavano a abitare insomma di tutte le persone benestanti ma volevo sapere se lui sa che il nostro Stato a causa dell'ipertassazione noi abbiamo una tassazione che è la più alta del mondo abbiamo tre volte le tasse necessarie abbiamo il doppio delle tasse rispetto al resto d'Europa lo Stato lo Stato perde 852 miliardi ogni anno di gettito fiscale per mancata economia abbiamo 20 milioni di lavoratori invece che 30 milioni potremmo arrivare con gli stranieri allora sì che servirebbe a mano balanza non a basso costo ma a costo normale per arrivare a 40 milioni di lavoratori abbiamo perdiamo 250 miliardi per causa delle privatizzazioni ci siamo venduti tutte le aziende di Stato che facevano utili che sono tasse per i cittadini paghiamo altri 237 miliardi di tasse sulla scuola pubblica andiamo a chiudere la domanda più sintetico per favore è finita è finita la domanda chiudo chiudo e quindi 237 miliardi di tassi sono 852 miliardi di perdite totali tra i cittadini e lo Stato questo Berlusconi lo sapeva o non lo sapeva ma voi soprattutto lo sapete o non lo sapete che si può fare da domani mattina questa roba qua grazie Russo prego la lascio intervenire poi davvero siamo in chiusura sì ne parlavamo proprio pochissimi secondi fa quindi sicuramente non ci ha ascoltato è evidente che il nostro Stato è uno Stato che negli anni è diventato uno Stato troppo invasivo e troppo costoso e quindi bisogna fare una cura di snellimento la pressione fiscale non è doppia rispetto a quella degli altri paesi ma è decisamente superiore per questa ragione da molti anni in verità tutti i governi stanno diciamo lentamente provando a diminuirla e ci sta riuscendo a me piace sottolineare una cosa le tasse scenderanno ancora con questa legge di bilancio saranno modulate diversamente ma scenderanno scenderanno soprattutto per le famiglie la cosa che mi tiene sottolineare è che le cose non vanno male come diceva lui anzi l'occupazione gli ultimi dati che abbiamo a disposizione che sono quelli di agosto ha fatto segnare un record storico in Italia del 62,2% la disoccupazione ha sfiorato il minimo storico è al 6,2% quindi tra le più basse di sempre significa che in Italia c'è lavoro che le aziende hanno ripreso ad assumere e che non c'è una disoccupazione e la crisi che c'era qualche anno fa e che possiamo guardare con fiducia al futuro noi voi trasmettete io sono cresciuto come voi da quelle parti dove siamo abituati ad avere un'occupazione molto alta anzi mi ricordo benissimo che la provincia di Lecco per molti anni è stata la provincia in Italia che aveva il tasso di disoccupazione più basso anche lì negli ultimi anni abbiamo conosciuto la crisi lì prima che altrove è ripresa l'occupazione sono riprese le assunzioni e questa mi pare la prima buona notizia perché dalle assunzioni significa che riprende il mercato e che possiamo finalmente tornare a crescere è un circuito positivo virtuoso che porta solo benefici a tutti il tema che dovremmo valutare dovremmo considerare più avanti è quello del lavoro che non sempre è un lavoro ricco cioè che consente alle persone di mantenersi su questo dovremmo lavorare tanto intanto però anche qui abbiamo una piccola buona notizia perché quest'anno l'inflazione cioè la crescita dei prezzi è dell'1,8% ed è praticamente la metà di quella che era l'anno scorso che era 4,3% quindi diciamo i nostri stipendi sono stati erosi l'anno scorso del 4,3% quest'anno è quasi dimezzata questa quota quindi lentamente andiamo a stare meglio e questa mi pare una buona notizia lei dice guardiamo con ottimismo al futuro un'ultima domanda veramente 30 secondi russo perché poi dobbiamo dare la pausa i due conflitti aperti tuttora in corso quello in Medio Oriente quello tra Ucraina e Russia che ruolo deve avere l'Italia al nostro paese insieme all'Europa l'Europa appunto la nuova Europa che si è formata allora io vedo un forte protagonismo dell'Europa e dell'Italia in Europa un protagonismo importante che è dovuto certamente al profilo del nostro ministro degli esteri che è segretario di Forza Italia ma non solo anche alla stabilità che ha il nostro governo e al ruolo internazionale abbiamo appena avuto una delega di peso all'interno della Commissione Europea la cosa che mi piace più di tutti è che ieri sera Giorgia Meloni che è il Presidente del Consiglio che può contare su una maggioranza amplissima in Parlamento di fronte all'acuirsi della crisi soprattutto quella iraniana-israeliana che citavo poco fa abbia chiamato la segretaria del PD Elish Line e gli abbia detto abbiamo un problema saranno settimane difficili serve un'unità nazionale su queste cose quindi sul futuro diciamo addirittura della tenuta dell'umanità non soltanto del nostro paese della sopravvivenza si ragiona insieme è stato un atto di umiltà e collaborazione che mi sembra molto positivo grazie grazie a Paolo Emilio Russo per essere stato con noi deputato di Forza Italia grazie per essersi addentrato appunto in queste che sono poi le ultime novità politiche ma anche guardando appunto a quella che sarà la nuova manovra che come sempre appunto riguarda tutti noi ci fermiamo davvero per qualche istante a tra pochissimo con la seconda parte etg più today eccoci di nuovo insieme con la seconda parte della trasmissione innanzitutto sono cambiate sono state aggiornate le aperture dei quotidiani online questa mattina l'apertura della trasmissione è la notizia della morte di un operaio mentre lavorava sul binario ancora ritardi e cancellazioni per quanto riguarda il sistema del traffico ferroviario ora siamo sull'home page del Corriere della Sera lo vedete si torna a parlare di Medio Oriente con Kamenei che commemora Nascerallah il nostro nemico è uno solo i paesi musulmani devono unirsi queste le parole poi ancora diversi articoli ovviamente correlate rispetto alla stessa notizia la preghiera per Nascerallah a Roma presente anche il corpo diplomatico dell'Iraq fiumicino gli italiani rientrati dal Libano non sappiamo quando torneremo e poi ancora la questione medio orientale con l'analisi l'allarme l'allarme e l'intervento l'Iran cimice talpe tra i Pasradaran così il vertice dell'asse sciita è stato infiltrato dal Mossad grandi siamo alla paralisi della diplomazia lo sforzo umanitario è allo stremo dobbiamo temere un confronto armato tra Iran e Israele il calcolo dei rischi di Netanyahu a Teheran questi appunto poi gli altri articoli che riguardano la questione medio orientale l'abbiamo visto oramai gli occhi del mondo sono puntati davvero sui territori che si trovano appunto in quel particolare scacchiere geopolitico siamo su Lanza il primo piano resta appunto il tecnico investito da un treno lo stop alla circolazione in ritardi è accaduto sulla linea Bologna Velezia RFI Rete Ferroviare italiane in una nota scrive che da una prima ricostruzione per causa ancora da accertare al momento dell'investimento l'uomo un 47enne si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata appunto dalle lavorazioni e questo il virgolettato intanto che troviamo in apertura dell'Ansa e poi ancora la notizia che arriva dal Medio Oriente nascerà sepolto in un luogo segreto e Camenei dice con un fucile al fianco di Buono vedo collegata Silvia Legnani torniamo allora sul territorio della Tremedina per continuare a parlare del cantiere e soprattutto dell'incontro che è ancora in corso Silvia si è in corso appunto la riunione al centro polifunzionale di Ossuccio riunione che vede al tavolo i vertici istituzionali e politici del territorio da quello che si apprende il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra sta leggendo un documento condiviso che presumibilmente verrà indirizzato sottoposto ai vertici di Anas e del Ministero per chiedere appunto a gran voce un nuovo cronoprogramma da parte di Anas che si attende appunto dai mesi scorsi Anas infatti lo ricordiamo durante l'ultima riunione alla fine del mese di luglio a Villa Galli aveva promesso appunto che per il mese di settembre avrebbe aggiornato il cronoprogramma dei lavori con appunto nuove date un nuovo piano realistico del cantiere cantiere che nei mesi scorsi ha dissato molta preoccupazione per lo stallo dei lavori gli scavi in galleria infatti sono fermi ormai da mesi a Griante e ora anche a Colonno proseguono soltanto i lavori di contorno e quindi dunque la preoccupazione del territorio è davvero alta e ora è arrivata la nuova tegola sul cantiere notizia di ieri infatti lo abbiamo detto prima appunto negli scorsi collegamenti la nuova tegola dell'inchiesta della procura di Milano che ipotizza i reati di corruzione turbativa d'asta e violazione del segreto d'ufficio due dirigenti di Anas sarebbero appunto indagati per corruzione da quanto è emerso finora dalle indagini sarebbero accusati di aver incassato denaro per il maxi appalto appunto per la realizzazione della variante della Tremezzina un'opera considerata fondamentale per il territorio lo abbiamo sentito anche prima a livello di viabilità dal comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Guerra monterebbe a quasi 846 mila euro la presunta tangente versata tra il 2018 e il 2021 sempre secondo quanto è emerso dalle indagini ai due dirigenti uno dei quali è ancora appunto manager della società che gestisce la rete stradale nazionale dal consorzio che si occupa appunto dei lavori che si è giudicato l'appalto da quasi 400 milioni di euro per i lavori della variante denaro che sarebbe finito appunto secondo gli inquirenti agli indagati in due diverse occasioni tra il 2018 e il 2021 l'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza che ha eseguito delle perquisizioni nelle sedi di ANAS nell'ambito appunto dell'inchiesta della procura di Milano lo abbiamo detto per i reati di corruzione turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio sulla vicenda è intervenuto ieri anche il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini che ha detto mi auguro che gli inquirenti facciano bene e in fretta il loro lavoro se c'è qualcuno che ha sbagliato paghi a quanto so ha aggiunto ieri il ministro Salvini sono episodi che iniziano a risalire dal 2020 quindi facevo altro nella vita ha detto il ministro ma a prescindere se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato ne deve pagare le conseguenze dunque una notizia quella che è arrivata ieri che ha destabilizzato appunto una situazione già delicata se ne sta parlando adesso come vi dicevo nella riunione in corso nell'auditorium dell'istituto comprensivo di Tremezzina dunque appena avrò aggiornamenti vi richiederò la linea assolutamente grazie Silvia Legnani anche per questo quadro della situazione per quanto sta accadendo sull'argomento appunto che riguarda il cantiere per la variante della Tremezzina torniamo agli aggiornamenti sul web siamo sulla Repubblica la tragedia occupa il primo piano appunto dell'home page Bologna Venezia morto investito da un treno operaio di una ditta appaltatrice di RFI Salvini profondo cordoglio ritardi di un'ora per intercity alta velocità e poi ancora legati appunto sempre alla vicenda che riguarda il trasporto ferroviario il ministro Salvini sulla graticola anche fratelli d'Italia lo incalza spiega in Parlamento il tilt dei treni si riferisce appunto al blocco per un per un chiodo di fatto messo male che ha mandato in tilt l'intera circolazione nel nostro paese è partita appunto questo blocco dalle stazioni della capitale Roma Tiburtina e Roma Termini e poi ha creato conseguenze con ritardi cancellazioni su tutto appunto la rete ferroviaria nazionale pronto buongiorno niente e ancora sempre appunto collegata a quanto accaduto nei giorni scorsi scarica barile dopo gli errori per il guasto di Roma sospetti sulla giungla dei subappalti la rete ferroviaria al capolinea e la politica in briglia FS ecco questi sono poi gli ultimi aggiornamenti che riguardano su che riguardano la vicenda appunto del blocco che ha paralizzato di fatto la circolazione ferroviaria andiamo a leggere però quello che è accaduto questa mattina la tragedia lo abbiamo visto la morte appunto di un operaio circolazione ferroviaria a ripresa sulla linea Bologna-Venezia tra Castel Maggiore e San Pietro in Casale dove era stata interrotta attorno alle 4.30 del mattino dopo l'investimento di un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di RFI la vittima aveva 47 anni ad investirla è stato in Intercity Roma-Trieste le cause sono in corso di accertamento le ferrovie dello Stato avevano fatto sapere che i treni a alta velocità Intercity e regionali potevano subire deviazioni limitazioni di percorso e cancellazioni i treni ad alta velocità Intercity sono stati stradati quindi su percorsi alternativi hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti la situazione è iniziata a tornare verso la regolarità poco dopo le 8 dopo l'intervento appunto delle autorità giudiziarie e poi ancora la circolazione è monitorata da rete ferroviaria italiana che esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima la dinamica di quanto accaduto al vaglio delle autorità competenti alle quali si sottolinea ancora nel virgolettato RFI sta offrendo la più ampia collaborazione da una prima ricostruzione per causa ancora da accertare al momento dell'investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata appunto dalle lavorazioni poi l'abbiamo visto le parole del ministro Salvini che le verifiche sono in corso il vice premier ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha espresso profondo cordoglio per la morte del lavoratore sulla linea Bologna-Venezia Salvini segue gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione a partire dall'accertamento della dinamica dei fatti lo fa sapere appunto il ministero in attesa che i fatti vengano quanto prima accertati e che venga fatta luce sulla dinamica ai cari della vittima aggiunga tutta la mia vicinanza il mio profondo cordoglio dice il vice ministro alle infrastrutture e appunto ai trasporti Bignami e poi ancora gli attacchi invece che arrivano dal centro-sinistra che dicono poca sicurezza la rete sovraccarica cordoglio dolore rabbia per l'ennesima incidente mortale che questa notte è costato la vita appunto ad un operaio di 47 anni dipendente di una ditta paltradice di rete ferroviaria italiana così Angelo Bonelli il portavoce di Europa Verde parlamentare di AWS la memoria ci riporta al tragico incidente di Brandizzo che un anno fa costò la vita a 5 operai dopo Brandizzo nulla è cambiato dice non sono state introdotte nuove tecnologie per garantire più sicurezza i manutentori non hanno ancora a disposizione strumenti per conoscere in tempo reale la circolazione dei treni e questo quanto mette in luce appunto Bonelli parlando ancora una volta sta chiedendo maggiore sicurezza per chi lavora sulle reti ferroviarie arriva però anche il commento del Partito Democratico con il capogruppo nella commissione trasporti Anthony Barbagallo che dice oltre a risprimere cordoglio dice si tratta dell'ennesima appunto vita spezzata sul binario e torna a chiedere anche lui maggiore sicurezza per quanti lavorano in queste aree torniamo a collegarci con Silvia Legnani che veda assieme appunto ad un ospite sì siamo con Anna Dotti consigliere regionale di Fratelli d'Italia buongiorno dunque è uscita proprio pochi istanti dalla riunione che è ancora in corso che cosa sta emergendo allora innanzitutto sta emergendo che il territorio è coeso sul tema delle certezze che bisogna ottenere adesso per quanto riguarda il cantiere certezze sulle tempistiche certezze sulle lavorazioni e certezze sull'andamento di questo progetto perché il territorio non può più sopportare ritardi ma soprattutto non può più sopportare di non essere messo al corrente di quello di come andrà a finire insomma ecco infatti in questi mesi avete chiesto più volte risposte chiare concrete da Anas e anche al Ministero sì allora come dicevo prima la cosa positiva è che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'opera è assolutamente necessaria ma che debba avere un andamento al quale noi amministratori e di conseguenza anche la cittadinanza deve essere messa al corrente le risposte devono arrivare da Anas le risposte devono arrivare dal Ministero in questa occasione siamo tutti presenti a tutti i livelli quindi questo è un segnale molto positivo perché comunque ci sono presenti anche gli onorevoli oltre che noi consigli regionali l'assessore i sindaci e gli amministratori del territorio e la provincia questo è sicuramente positivo perché vuol dire che tutti a gran voce stiamo chiedendo la stessa cosa il territorio aspettava il nuovo cronoprogramma che Anas aveva annunciato a luglio e che non è mai arrivato sì anche gli amministratori aspettavano il cronoprogramma sicuramente come è stato anche più volte specificato la burocrazia non aiuta però non possiamo sempre nasconderci dietro il tema della burocrazia perché qui stiamo parlando di un'esigenza ma soprattutto di un disagio forte che sempre di più sta vivendo la popolazione il turismo i pendolari chi ci vive e chi percorre questa strada quotidianamente un'opera fondamentale dunque per il territorio io l'ho sempre sostenuto e andrò avanti a sostenerlo ovviamente bisogna restringere i tempi siamo anche nel 2024 e non possiamo permetterci che succedano ancora queste cose in cantieri che potrebbero essere tranquillamente con delle soluzioni magari anche più tecnicamente percorribili a queste lunghe sottoposte a queste lungaggini su una situazione già incerta ieri è caduta una nuova pesante Tegola purtroppo sì preferirei evitare di commentare considerato che ci sono delle indagini in corso per noi è stata una grossa sorpresa vedremo come saranno i prossimi sviluppi cosa vi aspettate a rischio peggiore insomma è il blocco del cantiere io spero proprio di no anzi scongiurerei proprio questa ipotesi ovviamente non è nelle nostre facoltà prevederlo detto questo c'è appunto un'indagine in corso e spero che non implichi appunto il tema del blocco del cantiere ecco quindi il prossimo step è alzare la voce verso appunto i vertici di Anas e del Ministero assolutamente ma già in questo in questo momento si stanno alzando le voci di tutti i livelli istituzionali e fortunatamente nella stessa direzione ecco così che uniti forse riusciamo a portare a casa un risultato migliore dunque uniti appunto questo è l'obiettivo per far sentire la propria voce sia ai vertici di Anas che ai vertici del Ministero ringraziamo la nostra ospite per essere stata con noi Anna Dotti ti restituisco per il momento la linea grazie Silvia Legnani ancora una volta anche quest'ultima testimonianza che arriva dal Consigliere regionale Dotti va nel senso dell'unità di intenti essere uniti un territorio coeso istituzioni cittadini istituzioni a tutti i livelli appunto e cittadini per chiedere adesso a maggior ragione dopo quanto messo in luce dall'inchiesta rassicurazioni e risposte concrete ai vertici di Anas ma anche appunto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la volontà è quella ovviamente che il cantiere possa ripartire ma possa ripartire a pieno regime che non ci siano più sospensioni come quelle invece che ci sono state che hanno caratterizzato gli ultimi mesi proprio del cantiere per la variante della Tremezzina intanto torniamo all'attualità un flash che ci riporta a parlare della vicenda giudiziaria che riguarda una delle più famose influencer del nostro paese ovviamente ci riferiamo a Chiara Ferragni chiusa l'indagine su Chiara Ferragni l'accusa è truffa aggravata per i casi delle pubblicità ingannevole legate alla vendita di Pandore uova di Pasqua verso la richiesta del processo questo quanto si legge sull'Ansa la procura di Milano ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo nei confronti di Chiara Ferragni e di altre persone per l'accusa di truffa aggravata al centro dell'inchiesta coordinata dal PM Cristian Barilli e dall'Aggiunta Eugenio Fusca condotta dal Nucleo di Polizia Economico finanziaria della GDF ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite e vi ricorderete la questione ha fatto molto discutere torniamo a dare la linea Silvia Legnani Abbiamo con noi l'assessore regionale a Università Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi buongiorno 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 a voi buongiorno a tutti dunque in corso la riunione a Ossuccio che cosa sta emergendo state portando avanti un documento condiviso stiamo portando avanti un documento condiviso che racchiude un po' insomma alcuni temi che peraltro hanno già usciti sull'importanza del cantiere sulla necessità di avere un cronoprogramma aggiornato che sia realistico è chiaro che la notizia di ieri rispetto a questa indagine in corso che ha riguardato ANAS e in parte anche come dire il collegamento col cantiere di Tremezzo è un ulteriore elemento che complica un po' la situazione però oggi non ci sono come dire elementi che portino a pensare ad un sequestro del cantiere che sarebbe oggettivamente qualcosa di molto controllato e soprattutto incontrollabile c'è un'indagine in corso spero e credo anche che non si arrivi ovviamente al sequestro del cantiere perché riguarda come dire delle ipotesi di raggizione di denaro su alcuni funzionari di ANAS ma che riguardano più più cantieri e non è anche detto che la ditta coinvolta sia poi il consorzio che ha il cantiere di Tremezzo quindi è tutto ancora da capire quel percorso lì al netto di questo il cantiere ha rallentato l'abbiamo saputo lo abbiamo visto in questi ultimi mesi c'è ovviamente la rassicurazione da parte del Ministero che questo cantiere riparta a pieno regime e che quindi si dia un cronoprogramma definitivo spero appunto che questa vicenda non infici quello che erano le rassicurazioni che erano state date anche meno di un mese fa io peraltro vedrò anche domenica il Ministro Salvini ma su questo non ci sono dubbi è chiaro che il territorio chiede certezze il territorio chiede ovviamente di avere un cronoprogramma che sia poi rispettato non c'è una questione economica questo va tolto ovviamente dagli elementi perché ricordo tutti che durante la giudicazione della gara c'è stato un ribasso d'asta di quasi 100 milioni di euro quindi ci sono come dire risorse che rimangono rispetto al cantiere che possono ovviamente garantire c'è stato un problema rispetto al smaltimento degli idrocarburi che in parte è risolto e che comunque riguarderà tutto al cantiere perché il trasporto del materiale con le norme legate al Ministero dell'Ambiente complicano ovviamente lo smaltimento di alcuni tipi di materiale ma lo si sa però da un punto di vista economico questo cantiere oggi è ampiamente garantito quindi c'è bisogno ovviamente di fare chiarezza su quanto l'indagine possa coinvolgere questo cantiere e spero almeno possibile o per nulla e al di là di questo fare chiarezza rispetto ad una ripartenza definitiva che non sia uno start and stop un inizio ed un rallentamento il cantiere di fatto non si è mai fermato ma è chiaro che ha rallentato la propria attività l'altro tema è quello che viene richiesto nel documento di completare prima possibile il salto di montone perché questo garantirebbe anche da un punto di vista viabilistico e da un punto di vista anche di sicurezza ovviamente la possibilità di alleggerire un pochino il tema del traffico su questo è stato chiarito all'interno del documento dunque al ministro Salvini che ha detto incontrerà domenica porterà appunto le istanze del territorio sì che l'ha ben presente è un cantiere prioritario per la regione Lombardia è uno dei cantiere prioritario anche per il ministero e per ANAS le rassicurazioni ci sono state quindi nel momento in cui ci sono delle rassicurazioni io tendenzialmente tendo a fidarmi perché è giusto che sia così questa novità che ovviamente non è apprevedibile né preventivabile spero che non entri all'interno del programma e che non complichi una situazione che è già di per sé complicata per cui rimango comunque fiducioso nel senso che salvo il caso del sequestro di cantiere che però dal mio punto di vista non ci sarà il consorcio potrà andare avanti a continuare a lavorare deve però chiarirsi da un punto di vista definitivo cosa che peraltro era auspicata per fine di questo mese per fine ottobre con la ripresa ovviamente a pieno regime di lavori che venga confermata e peraltro a settembre si attendeva al nuovo cronoprogramma che non è arrivato però penso che questo arrivi sicuramente entro questo mese nel senso che alla fine anche la tempistica che può essere dettata da alcune variabili da alcuni problemi che nel corso degli anni comunque troveremo questo non è un cantiere semplice lo sappiamo tutti è un cantiere comunque complicato ma il cronoprogramma deve essere aggiornato con costanza quello che abbiamo chiesto è anche ovviamente il fatto che la popolazione sia mensilmente informata cioè quello che abbiamo lamentato in questi mesi oggettivamente è stata una difficoltà di relazione di comunicazione di informazioni da parte di ANAS questa cosa va sistemata perché non dipende da nessuno dipende solamente dalla buona volontà di mettere sul tavolo se ci sono i problemi vedere uno a uno di risolverli ma avere come dire una costante informazione da dare sia alle istituzioni ma soprattutto ai cittadini in modo tale che anche come dire le ipotesi che poi circolano possano essere in qualche modo confutate insomma si possa dare rassicurazioni la comunicazione è importante da questo punto di vista soprattutto su un cantiere che impatta in termini di viabilità di viabilità su un territorio importante come quello come quello del lago questa comunicazione deve essere molto più forte molto più diretta molto più frequente in modo tale che sia un percorso che sia quello e tutti siano informati di quello che sta succedendo quello che oggettivamente è mancato negli ultimi mesi è proprio questo Grazie grazie all'assessore regionale Alessandro Fermi per essere stato con noi a te la linea Grazie Silvia Legnani e intanto appunto abbiamo sentito anche in questo caso dalle parole dell'assessore regionale Fermi la volontà anche in una maggior comunicazione filo diretto tra ANAS e i cittadini proprio che nutrono speranze davvero molto alte nei confronti della realizzazione di questo cantiere lo ripetiamo ancora una volta la variante della Tremenzina andrebbe sicuramente ed è questo l'obiettivo e l'intento con cui è nata l'obiettivo appunto di quest'opera a snellire la trafficata arteria è stata la regina che come ricordava nel collegamento nella prima parte della trasmissione il comandante della polizia locale di Tremenzina Castelli la regina diventerebbe appunto una strada panoramica mentre il traffico quindi per i collegamenti per le persone che devono spostarsi lo farebbero proprio sulla variante stavamo parlando del caso dei pandori appunto della questione legale che ha investito l'influencer Frani arriva intanto anche la replica le parole appunto di Chiara Ferragni che dice confido venga acclarata presto la mia innocenza difesa la vicenda non ha rilevanza penale già risolta da Agicom queste le parole appunto degli avvocati riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sete di Agicom avvieremo al più presto un confronto con i pubblici ministeri e confediamo in una conclusione positiva della vicenda Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata questo prima così appunto gli avvocati dell'influencer torniamo da Silvia Regnani Sì sono con l'onorevole Chiara Braga del Partito Democratico buongiorno qui presente alla riunione appunto che cosa sta emergendo? Sta emergendo una grande preoccupazione ma anche una richiesta di fare tutti il massimo sforzo perché questa infrastruttura possa andare avanti possa finalmente dare una risposta a un problema antico ma sempre più urgente di questo territorio ma di tutta la provincia penso che questo sia davvero un momento in cui come rappresentanti istituzionali al di là degli schieramenti abbiamo il dovere di dimostrare il massimo di responsabilità e di unirci per chiedere in primis al Ministero ad ANAS di fornire tutti gli elementi necessari e anche di assumere delle decisioni eccezionali straordinarie per garantire il completamento dell'opera Ieri è arrivata una notizia inaspettata che complica ulteriormente una situazione già delicata per il territorio è una notizia ovviamente che preoccupa noi abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura ma crediamo che in questo momento proprio per questo serva un di più di assunzione di responsabilità anche dei livelli istituzionali e quindi la richiesta che mi auguro tutti insieme faremo è di avere un quadro il più possibile certo e di raccogliere la richiesta che viene in primis dai sindaci che oggi sono qui riuniti a rappresentare le loro comunità di avere un'indicazione chiara di come poter procedere anche ricercando appunto spazi straordinari per superare una soluzione straordinaria grazie grazie per essere stata con noi per oggi da Ossuccio è tutto la riunione è ancora in corso ti restituisco la linea grazie Silvia Legnani per questa serie di collegamenti e soprattutto di aggiornamenti in tempo reale che hai potuto dare dalla riunione credo in via oramai di conclusione la riunione che si è svolta a partire da questa mattina ad Ossuccio al centro ovviamente della discussione il futuro del cantiere per la variante della Tremezzina dopo l'inchiesta di ieri che rischia di gettare un'ombra scura sul futuro dell'opera la volontà però l'abbiamo sentita dai diversi commenti degli ospiti e soprattutto appunto dei politici che sono intervenuti è quella di restare uniti e soprattutto ora di chiedere risposte concrete sul futuro appunto del cantiere la speranza è che quella ora gli interventi possano riprendere a pieno regime ma non appunto con stop and go con delle pause come abbiamo assistito di fatto negli ultimi mesi e soprattutto la speranza di avere un crono programma definito dell'opera così per avere tempi certi questa è la speranza che arriva dalle istituzioni lariane a tutti i livelli questa è soprattutto però la speranza di quanti abitano e vivano in quei paesi che si affazzano appunto sul lago di Como continueremo ovviamente a parlarne anche nell'arco della prima edizione del telegiornale subito dopo di noi a partire dalle 12.30 l'appuntamento con ETG F2 Today invece torna lunedì grazie per averci seguito una buona giornata a partire